Fano partecipa per la prima volta alla settimana europea della mobilità sostenibile e lo fa coinvolgendo tutta la cittadinanza in una serie di appuntamenti. E infatti iniziato con l'apertura delle scuole, a scuola ci andiamo da soli, il progetto che permette ai più piccoli di sperimentare in sicurezza ed in autonomia una mobilità sostenibile. Invece domani, giovedì 21 sono invece gli adulti ad essere chiamati in gioco con l'iniziativa Vieni al lavoro in bici, ti meriti un caffè. Per capire meglio di che cosa si tratta lo abbiamo chiesto alle ideatrici di questo evento. Veniamo tutti i giorni in bici, però quella di domani è un'iniziativa per sollecitare chi ancora non lo fa a farlo sempre, insomma tutto l'anno, non soltanto un giorno, quindi l'iniziativa non è uno spot fine a se stesso ma vuole essere un invito insomma a provare e poi a farlo in modo permanente. Perché domani che cosa succede? Che giornata è? Dunque la giornata del Giretto d'Italia viene il lavoro in bici che è un'iniziativa molto carina veramente per sensibilizzare tutti e noi aspetteremo tutti i ciclisti dalle sette e mezza alle dieci in quattro porte della città che sono l'Arco d'Augusto, Piazza Costanzi, il Pino Bar e via Garibaldi lato mare davanti alla bella Napoli. Si riceverà un coupon con un omaggio di un caffè e un bel segnalibro da tenere. Tutte le informazioni le trovate sul sito del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it sulla sezione della Mobility Week che l'abbiamo creata nell'occasione di questa settimana della mobilità sostenibile.